Andate! Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lunghi. Gesù vuole mandarci al macello. Che macello! Ma va là, Kuduma! No, Gesù ci manda in missione! Gesù vuole che ci relazioniamo con tutti. Il numero 72 richiama tutti i popoli del mondo. Anche noi, quindi, siamo inviati proprio a tutti. Sarebbe più comodo vivere nel comfort delle nostre certezze, in un ambiente sicuro che conosciamo. Ma i cristiani non sono venuti al mondo per fare della vita un divano che ci addormenti. Citt! Salute! Grazie! Gesù ci chiede di annunciarlo a tutti, anche a chi, come i lupi, potrebbe starci antipatico. Dio si aspetta qualcosa da te. Ha bisogno delle tue mani per costruire il mondo di oggi. Ma non le tue! Le tue! Come porti avanti la tua missione?